attraverso l'enneagramma possiamo conoscere meglio noi stessi e possiamo evolverci e io rimango sempre più stupita sempre più colpita dall'efficacia reale e concreta dell'enneagramma in particolare oggi vi voglio parlare di un aspetto forse poco conosciuto dell'enneagramma ossia che l'enneagramma ci aiuta a capire qual è la nostra anima originaria o anima bambina cosa vuol dire vuol dire che da bambini noi eravamo una ben precisa tipologia che per qualche motivo non siamo più riusciti a sostenere a mantenere e quindi diciamo che ci siamo dirottati verso un'altra tipologia vi faccio un esempio se la mia attuale tipologia è il tipo 1 il perfezionista la mia anima bambina qual è come faccio a capire qual è è la tipologia verso cui io vado quando sono in fase di riposo o integrazione o maturazione spirituale insomma come la vogliamo chiamare quindi ogni tipologia se guardiamo il diagramma con le frecce ognuno di noi trova la sua anima bambina guardando la freccia nel senso però contrario alla freccia stessa perché tutte le frecce nella direzione della freccia stessa ci portano alla tipologia verso cui andiamo in fase di stress invece tutte le frecce ma seguite nella direzione contraria alla freccia ci portano alla tipologia verso cui andiamo in fase di integrazione o riposo per cui solo per darmi un assaggio di quello che spiegherò più nel dettaglio nei prossimi video il tipo 1 vuol dire che da bambino era un 7 e era un piccolo vivace e felice 7 per qualche motivo non è più riuscito a sostenere questo suo bellissimo mondo 7 questo felice mondo 7 e quindi si è costruito tutta la sua falsa identità si è costruito una personalità di tipo 1 che è la personalità poi che permette di vivere e sopravvivere nel mondo è in poi il filtro attraverso cui ciascuno di noi vede il mondo adesso cioè la nostra attuale personalità la nostra attuale tipologia del lineagramma è un po il meccanismo di difesa che abbiamo sviluppato come reazione per appunto vivere e sopravvivere nel mondo ma noi all'origine eravamo un altro tipo quindi quest'altro tipo è la nostra anima bambina e corrisponde appunto come ho detto alla tipologia verso cui andiamo in fase di integrazione e secondo la tradizione è il peccato originale deriva da qui è questo cioè il peccato originale consiste nell'aver rinnegato nell'esserci allontanati dalla nostra vera anima dalla nostra anima bambina questo secondo me è un aspetto dei più interessanti dall'enneagramma io sono rimasta molto colpita sono rimasta molto colpita dall'efficacia e dalla verità che si percepisce l'ho chiesto anche ad altre persone a dei miei conoscenti e ho chiesto come erano loro quando erano piccoli e vi assicuro che c'è una corrispondenza sbalorditiva con queste indicazioni che ci dà l'enneagramma quindi per questo video è tutto e sono ansiosa di proseguire con tutte le varie descrizioni delle tipologie verso cui andiamo in fase di integrazione e che sono le tipologie della nostra vera anima e questa secondo me è una cosa meravigliosa da scoprire quindi per questo video è tutto vi saluto mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi anche su instagram grazie a tutti